Mettimi in posizione, la postura è buona, può arrivare in qualsiasi parte, quindi occhio, sono tre palloni di cemento, quindi parata, ti alzi, parata, ti alzi, parata, ok? Sì! Vuoi che fa quello che fanno i grandi? Sì! Apposto! Uno, che fingi, dai, mettimi subito apposto, subito la porta, due, fingi, ancora, 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 infini, guarda la palla, uno, bravo!